Tre anni fa la Commissione Europea di Gisanco, così chiamata, ha incaricato alcuni centri europei che si occupano di autismo di sviluppare un progetto sulla diagnosi precoce. Un progetto che potesse abbassare notevolmente il tempo in cui viene fatta la diagnosi quando oggi in effetti questa diagnosi viene effettuata tra i tre e i cinque anni, anzi a volte anche tra i cinque e gli otto anni. Il nostro compito è stato quello di sviluppare questo protocollo che permettesse agli operatori che vengono a contatto con questi bambini, siano essi insegnanti degli asili nido, delle scuole materne, sia pediatri, ad avere un'idea dei segni di allarme che compaiono dai sei mesi ai tre anni, quindi poter abbassare questo limite di età dai, verso insomma intorno ai due anni. Perché ci sono dei segni d'allarme. Ci sono dei segni d'allarme. Sono molto importanti, sono significativi, non sono diagnostici ovviamente dell'autismo, ma orientano fortemente verso una patologia di questo tipo. Quindi vanno precocemente individuati, anche perché l'intervento altrettanto precoce porta a dei risultati sicuramente significativi. Noi abbiamo visto come questi dati siano importanti da analizzare, perché noi abbiamo solamente individuato sotto i tre anni, abbiamo avuto l'anno scorso, solamente quattro bambini che sono arrivati da noi, su 251 pazienti che hanno avuto accesso al servizio, quindi un numero molto elevato sostanzialmente di pazienti, però solamente quattro tra i zero e i tre anni. Mentre ne abbiamo avuti 48 dai tre ai sei anni. Certo, in genere diagnosticare un male è sempre il primo momento della terapia, no? Nel caso dell'autismo questa diagnosi precoce che cosa può realmente portare? I vantaggi sono notevoli e anche molteplici. Il primo è sicuramente quello di poter individuare un disturbo su cui si può intervenire con delle strategie che oggi sono possibili da effettuare. Questo porta dei vantaggi sul bambino notevoli, non porta la guarigione, perché non esiste oggi un sistema terapeutico che permette la guarigione, però sicuramente porta dei miglioramenti che sono visibilissimi. Certo, l'intervento ha delle caratteristiche molto particolari e specifiche, deve essere un intervento corretto e adeguato in base alla diagnosi funzionale del bambino. Poi porta un altro elemento molto importante, permette agli studi epidemiologici di individuare delle possibili concause che possono essere presenti nel momento in cui insorge un disturbo. Se noi parliamo di un disturbo insorto 20 anni fa, difficilmente recuperiamo i fattori che erano collegati a questo disturbo. Quindi questo aiuterebbe molto la diagnosi precoce anche a capire l'eziologia, cioè la natura che in qualche modo potrebbe sviluppare l'autismo. Ecco, qua in via del Capitel, in questa struttura, quindi voi portate avanti questo percorso. Ma dovrete anche coinvolgere la territorialità, al di là delle famiglie, immagino i pediatri, immagino il mondo della scuola ad esempio. Esattamente, noi abbiamo l'idea, l'intenzione di avviare un corso di formazione che permetta ai pediatri, da un lato, e all'insegnante degli asili nido e delle scuole materne di individuare i segni d'allarme. Una volta individuati i segni d'allarme, ci si può rivolgere al centro di via del Capitella, la neuropsichiatria infantile e il genitore può avere una consulenza su questi segnali d'allarme che, ripeto, non sono necessariamente segnali di autismo, ma che potrebbero orientare verso questa diagnosi.